Una vittoria sofferta quella dell'Olimpia agnonese che ha affrontato in casa il Giulianova battendolo per 1-0. Una vittoria messa anche a repentaglio da un gioco non troppo brillante, ma alla fine i Granata incassano tre punti che valgono oro nella corsa verso la salvezza. Per la cronaca del match assistiamo ai primi 20 minuti di gioco piuttosto soporiferi, ma poi al ventunesimo. Ecco la svolta. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Saltarin serve a Santoro un'occasione imperdibile e imprendibile e lui di testa mette in rete per l'1-0. Si può dire che la partita comincia da qui. Le due squadre si svegliano dal torpore e cominciano a giocare soprattutto il Giulianova alla ricerca del pareggio. Ci prova Esposito al 31esimo da buona posizione, ma va fuori di poco. Più pericoloso è Mariani che al 35esimo scheggia l'incrocio dei pali con il suo tiro e al 40esimo costringe Biasella a tuffarsi. Con questo tentativo si chiude il primo tempo. La ripresa vede ancora il Giulianova protagonista, sempre con Mariani dalla sinistra, ma Biasella, ancora una volta, è bravo a intercettare. Al quinto minuto si fa rivedere Lagnone con Ibe, ma il suo tiro non va a buon fine. Anche Ricamato al nono impegna l'uno ospite, ma ancora una volta e Granata non possono urlare al raddoppio. Due minuti dopo all'undicesimo Mariani tenta il colpaccio, ma Litterio devia in angolo. Occasionissima di raddoppio per i padroni di casa arriva al ventiduesimo, ma Salta Rinno e sciupa tutto su cross di Ricamato. Al ventiquattresimo De Matteis si fa insidioso, ma il suo tiro va un filo alto sulla traversa. Ancora gli abruzzesi all'attacco con Testoni, che al ventisettesimo va fuori di pochissimo. Al trentesimo un episodio da Moviola. Ricamato crossa verso il centro, Lattarulo va a colpo sicuro, ma sulla linea la difesa salva tutto, forse, almeno qualcuno così lamenta, grazie anche a un fallo di mano. Al trentanovesimo ecco il tentativo di Serrone, entrato qualche minuto prima in sostituzione di Santoro, ma falso, riesce a deviare. Il classe 96 Granata accusa subito un problema alla spalla ed è costretto ad uscire. Al cinquantesimo si sfiora la rissa in campo per un fallo sull'attarulo. La tensione cresce tra i giocatori e a farne le spese con il cartellino rosso sono Capitale Litterio e De Matteis del Giulianova. Non accadrà nulla nei tre minuti successivi, otto in tutto i minuti di recupero assegnati in questo match, se non che il Giulianova è costretto ad avvicinarsi ai propri tifosi al triplice fischio per placare le contestazioni arrivate a fine gara per questa sconfitta. L'Agnone può godersi i tre punti a patto che scenda in campo con maggiore concentrazione.